Cari amici, come sapete la cifra degli avversari di Papa Benedetto e della vera Chiesa Cattolica è quella della manipolazione, della strumentalizzazione e della disonestà intellettuale. E infatti le accuse che ci rivolgono, cercando di metterci in un ghetto di pazzerelloni, di eretici, di scismatici, eccetera, vedo che si ripetono con una certa frequenza. Siete dei sedevacantisti, siete dei neodonatisti. Ecco, soprattutto Francesco Toscano ha imparato da poco questa parola, neodonatismo, e probabilmente la scriverà con la glassa sui suoi pandori al bergamotto. A che cosa si riferisce? Si riferisce a questo movimento scismatico della Chiesa Africana del IV e V secolo che sosteneva che i sacramenti amministrati da sacerdoti peccatori fossero nulli. Qui non si tratta di questo, qui si tratta del fatto che Bergoglio non è il Papa. Il fatto che sia eretico è del tutto accessorio e ininfluente. Quindi quello che dice don Alessandro Minutella è che i sacramenti non sono validi perché Bergoglio non è il Papa, non perché è eretico. Quella semmai è una cosa in aggiunta, è un optional. Perché uno dovrebbe andare a messa in unione con uno che non è il Papa, che ha usurpato il papato e per di più come ciliegina sulla torta è anche eretico? Questa è una bella domanda, no? Magari ci risponderà Monsignor Viganò dall'alto del suo magistero teologico. Quindi non date retta a chi vi dà dei neodonatisti, ma ancor meno dovete dar retta a chi vi dà dei sedevacantisti o dei neosedevacantisti. Il sedevacantismo è un movimento che nasce subito dopo il concilio e che, come sapete, non riconosce nessun pontefice legittimo dopo Pio XII. Questo su una base teologica, perché loro dicono che i papi postconciliari sono caduti in eresia, non hanno custodito bene il deposito della fede e quindi sono decaduti, per quanto eletti da un conclave legittimo. Quindi non c'entra assolutamente niente con quello che noi affermiamo, che se proprio volessimo utilizzare unismo dovrebbe essere definito sedeimpeditismo. Noi affermiamo che Bergoglio non è il Papa non perché ci siamo studiati una teoria teologica e abbiamo verificato che lui non è il custode della fede, eccetera, eccetera. Noi abbiamo verificato che su base canonica, a livello elementare, Benedetto XVI non ha abdicato perché la vacanza della sede non è rimasta tale a norma del canone 3.3.2, cosa sancita anche da un canonista, Don Stefano Violi, subito, nel febbraio-marzo 2013, su una rivista teologica, e quindi, dato che per l'articolo 76 non occorre alcuna dichiarazione ecclesiastica in proposito, se la vacanza della sede non è avvenuta a norma del 3.3.2, l'elezione è nulla invalida, fine dalla discussione. Bergoglio non è il Papa. Ah, ma chi siete voi per dirlo? Lo possiamo dire perché non occorre alcuna dichiarazione in proposito da parte della Chiesa, quindi Bergoglio non è il vero Papa, non è il Papa. Bergoglio non è il Papa, ok? Quindi, non essendo il Papa, nessun cattolico gli deve fedeltà, reverenza, religioso seguio, niente. Anzi, ogni cattolico lo deve combattere, deve denunciare questa cosa alle autorità competenti, cioè i veri cardinali di nomina pre-2013, che dice esattamente come abbiamo fatto con la petizione che vi invito a firmare se non l'avete già fatto. Troverete il link in descrizione. Quindi, i sede vacantisti che non celebrano i sacramenti in unione con i papi postconciliari, l'hanno deciso loro che non sono papi, l'hanno deciso loro su base teologica. Invece, noi abbiamo constatato, su base canonica, che Bergoglio non è il Papa, e lo possiamo fare perché non occorre nessuna dichiarazione in proposito da parte della Chiesa. Quindi, che l'unico tre di union che lega i sede impeditisti di oggi ai sede vacantisti di ieri è il fatto che non celebrano in unione con Bergoglio. Solo che i neosede vacantisti l'hanno fatto per tutti i papi postconciliari sbagliando. Perché? Perché se fosse vera la loro tesi non ci sarebbe più una gerarchia ecclesiale valida, dato che i vescovi devono essere approvati dal Papa. Quindi, il sede vacantismo è una teoria sbagliata, che va contro il dogma dell'indefettibilità della Chiesa, e che però ha una conclusione, diciamo, logica al suo interno, pur partendo da un assunto sbagliato. Loro dicono, quelli non sono papi, noi non celebriamo la messa in unione con quelli che non sono papi. Sarebbe lecito se fosse vero che i papi postconciliari non erano autentici pontefici. Ma siccome se la sono inventata loro questa cosa che i papi dal concilio oggi a Benedetto XVI non sono validi, è una teoria del tutto campata per aria. I sede impeditisti, per forza di cose, sono in sede vacante. Non è che sono sede vacantisti. Per loro la sede vacante è una realtà fattuale. Perché è una realtà fattuale che Benedetto era in sede impedita e non ha mai rinunciato a norma del canone 3.3.2.2. E quindi Bergoglio non è il Papa. Vedete? Cercano di farvi passare come quelli che vengono dalla montagna del sapone sede vacantisti. Ah sì, vabbè, voi pensate che Bergoglio non sia un Papa valido come i sede vacantisti pensavano che tutti i papi postconciliari fossero nulli, eccetera. Vedete cosa cercano di fare? E si guardano bene dal pronunciare la parola sede impeditismo. Per esempio, Monsignor Schneider, il vescovo più intellettualmente disonesto degli ultimi due secoli, probabilmente, prima avevo detto vent'anni, adesso parlo dei due secoli, scrive una lettera ai neosede vacantisti senza neanche citare la questione della sede impedita. Vi sembra corretta una cosa del genere? Vi sembra corretta? Cioè, è come se io rispondessi ai veri sede vacantisti senza citare la loro posizione sul concilio. Allora di che cosa stiamo parlando? I sede vacantisti non considerano papi, tutti quelli dopo Pio XII, per il concilio. Noi non consideriamo Bergoglio valido per la sede impedita e per questo ci diciamo in sede vacante. Se Schneider non nomina la sede impedita, fa un'operazione scorrettissima, intellettualmente disonestissima. Ma la cosa non mi stupisce perché in quelle zone farisaiche del tradizionalismo più cupo e bigotto, questo tipo di atteggiamento è la cifra comune. Quindi, avete capito, chi è per Papa Benedetto XVI si trova in sede vacante. Non è donatista perché non riconosce a Bergoglio la legittimità come pontefice per un dato canonico e non c'entrano niente le sue eresie che sono semmai un'aggiunta. Non è sede vacantista perché il fatto di essere in sede vacante non deriva da una speculazione teologica personale, ma deriva da un dato canonico che è constatabile da tutti senza bisogno che intervenga una dichiarazione della Chiesa. Bene, fatto questo chiarimento, cari amici, vi ricordo l'appuntamento del XIII a San Severino Marche insieme a Diego Fusaro e del XIV a Montesilvano in provincia di Pescara con la partecipazione anche molto gradita del teologo Carlo Maria Pace che voi conoscete e forse, mi hanno detto, sarà ospite anche lo stimato collega Franco Fracassi. Un caro saluto. Grazie.